Alla luce del nuovo PNRR, quindi la next generation, arriveranno in Italia certamente degli investimenti che dovranno essere scaricati a terra sui professionisti che in realtà dovranno modificare setting assistenziali e processi assistenziali. Per far questo chiaramente ci sarà necessità appunto di nuovi ruoli, nuove competenze, nuove professionalità che dovranno finalmente interagire in un team multidisciplinare, una parola che abbiamo detto tantissime volte negli arco degli anni ma che questa volta dovrà davvero essere messa a sistema. Bene, come farmacisti ospedalieri dei servizi farmaceutici territoriali crediamo fortemente di promuovere un nuovo ruolo proprio all'interno della missione 6 del PNRR dove sappiamo bene ci sarà tra breve appunto la nascita delle case della salute, degli ospedali di comunità, delle cure domiciliari e della telemedicina. Proprio all'interno di questo nuovo disegno di cura i farmacisti possono essere promotori di un nuovo cambiamento. Sappiamo bene che i distretti di prevenzione, ospedalieri e territoriali saranno gestiti da una cabina di regia che è appunto le centrali operative aziendali e territoriali. E' proprio all'interno di queste centrali operative che il farmacista dovrà finalmente essere quella figura che di fatto è attualmente, cioè una figura unica nel panorama sanitario, una figura trasversale che dovrà gestire il cruscotto digitalizzato di tutti i flussi dati sia della farmaceutica territoriale che dell'ospedaliera, del non delivery, della telemedicina, altresì dovrà integrarsi ai flussi appunto della diagnostica di laboratorio, della cartella clinica informatizzata, del fascicolo sanitario elettronico. Così facendo il farmacista diventerebbe quel gestore dell'interoperabilità dei dati necessario a poter coniugare una prescrizione appropriata ad outcome clinici e alla diagnostica di laboratorio. Quindi un nuovo ruolo, un nuovo ruolo appunto a nostro avviso di connettore tra le diverse competenze e questa volta nella scacchiera appunto della nuova medicina il farmacista deve essere posizionato appunto come pedina giusta e nell'ambito giusto.